Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzale B1 Variante e verso Roma per perdita di carico tra Valdichiana e Chiusi. In A11 coda per traffico in direzione Pisa tra Pistoia e Monte Catini Terme. Sale a 4 km invece la coda per incidente in Fipili tra Empoli Est ed Empoli Ovest nella carreggiata in direzione Mare. Verso Firenze coda per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ultima pagina per il traffico ferroviario. Permane sospesa oggi e domani la circolazione sulla Faentina tra Marradi e Faenza. Ulteriori dettagli sui nostri canali social o sull'app di Muoversi in Toscana. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Giorgio Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.